Nonostante lui sia innocente, decide di fare la cosa che è giusta, anche se a lui non giova. E ho chiesto appunto se oggi le persone che hanno esposto questa cosa sarebbero in grado di rifiutare un eventuale aiuto, consapevoli di essere innocenti, ma andando contro quello in cui avevano creduto fino a quel momento.